È passata appena una settimana la conclusione del Mondiale di Formula 1 ad Abu Dhabi, di conseguenza è il ritorno anche del format dei promossi e bocciati, del pagellone definitivo. E per una volta, come vedete, non sono solo, il cordiale saluto per questa sera vi giunge da Meteo Torgard e da Jag. Jag che ritorna dopo aver fatto il vlog a Imola sul mio canale, una co-op su F1 22 che è sul suo canale, pagellone che riguarda chi? I piloti dell'anno scorso, o meglio, di quello appena finito, no? Sì, esatto, esatto. Che in buona parte sono dell'anno scorso perché con tutto il mercato piloti che c'è stato ne perderemo una bella fetta. Giuste premesse prima di cominciare. Ovviamente iscrivetevi al canale mio e del Gheggone, prima premessa. Seconda premessa, non siamo giornalisti, siamo tifosi, appassionati, quindi ogni cosa che diremo potrebbe essere usata tranquillamente contro di noi. Terza cosa, come funziona il pagellone dei promossi e bocciati? Faremo una lista, diciamo, della classifica piloti dell'anno scorso, o meglio, sempre di quest'anno, perché mi viene finito una settimana fa. Promuoveremo, bocceremo o lasceremo sospeso il giudizio sui vari piloti in base al rendimento. Comunque, il pagellone parte, come sempre, dal primo classificato della classifica piloti, che per la Formula 1 è stato Max Verstappen. Due volte a campione del mondo, a sto giro ha dominato, bullizzato chiunque, non si può non promuovere, a mio modo di vedere. No, a sto giro io sarei stato, sono di parte perché tifo Max, però sarei stato anche per dargli un 10, ma il 10 non glielo do. Non glielo do perché la guida è stata... ma cosa gli vuoi dire? Le gare che sono andate a male, sono andate a male perché è esplosa la macchina, basta. Fine. Non ha fatto un solo errore in pista, anzi, uno l'ha fatto, uno spin in 360, l'ha ripresa al volo e ha pure praticamente vinto la gara. Quindi, cioè, che cosa gli vuoi dire? È un fenomeno, è un fenomeno in pista per chi l'anno scorso lo dava come vincitore per Michael Masi. Sicuramente questo ha avuto un ruolo, ma già l'anno scorso l'ha dimostrato di avere due palle di toro. Quest'anno la macchina era superiore, come è stata superiore per otto anni quella di Hamilton. La macchina era su un altro pianeta, ma lui era su un altro pianeta, perché vediamo che il compagno di squadra non è arrivato secondo. Quindi, se la macchina era quella da battere, lui era il pilota da battere. Va detto però, secondo me, che la Red Bull non era la macchina superiore, o meglio, lo era, ma lo è diventato, no? Perché noi ci ricordiamo i problemi atavici di affidabilità che ha avuto la Red Bull nelle prime tre gare. Cioè, in Australia sembrava che la Ferrari fosse la Red Bull di questa stagione. Alla fine, l'esatto contrario. Esatto, esatto. Infatti, stavo dicendo, non gli do il 10 solo per la scena che c'è stata nella penultima gara con Perez. Perché è inaccettabile, puoi essere il campione del mondo, puoi essere quello che vuoi, ma ha maggior ragione perché sei già campione del mondo di due punti, non te ne frega niente. Esatto. Perez, l'anno scorso, non ti ha dato una mano di più a vincere il mondiale. Poi non è stato determinante nell'ultima gara, ma che ultima gara ha fatto Perez per Verstappen? Quindi non puoi fare un'uscita del genere, questa è immaturità. È una scena vergognosa e per quanto sia il pilota che tifo, questo gli costa il 10, per quel che mi riguarda. E per la scuderia, invece, cosa gli vuoi dire? Adria e Nui dice 9. Perché all'inizio dell'anno non erano perfetti e allora gli diamo il 9 per dargli la penata prima, perché per la crescita che hanno fatto, cosa gli vuoi dire? Hanno pure fatto un intero TD39 per aiutare la Mercedes e loro sono la triangola più forte. Che cazzo gli vuoi dire a starete? Dobbiamo toglierci le cuffie e il cappello davanti ad Edra e Nui e dire bravo, niente da dire, niente da obiettare. Secondo classificato, il predestinato, ride anche Leclerc. Charles Leclerc in seconda posizione, io lo promuovo Leclerc perché è poveraccio, vista la situazione che aveva quest'anno, non poteva far di più. Al netto che qualche gara gliel'ha buttata via il muretto di fenomeni che si ritrova alla scuderia Ferrari. No, qualche gara, l'80% gliel'ha buttata via il muretto di fenomeni. In Ferrari sappiamo come lavorano, un paio di gare le ha buttate via lui, vedi Lecastele, due volte sfiga, vedi Barcellona, vedi Azerbaijan, però Leclerc in questa seconda posizione non può non essere promosso, secondo me. Non gli diamo il 10, gli diamo un 8 e mezzo, 8. Noi gli daremo il 10 perché se Versappen è stata la perfezione in pista, eccetto quella sbinnata, Leclerc ha fatto un paio di errori più gravi che hanno compromesso alcune gare. Non hanno compromesso il mondiale perché era assolutamente infattibile quest'anno, però effettivamente i suoi errori sono stati più gravi e ritengo che il suo errore più grave sia quello di maturità. Nel senso che tante volte la Ferrari si è impegnata a rovinargli la gara, ma lui non ha mai avuto la determinazione che hanno invece piloti come Hamilton, come Max Verstappen, eccetera, di dire la sua in team radio. Cioè la sua la diceva sempre dopo, si arrabbiava, si sfogava, che va bene perché piuttosto che tenerti tutto dentro è giusto dire quello che pensi, ma sarebbe più giusto dirlo quando conta, cioè durante la gara. Se ti vogliono montare le bianche e le bianche non vanno e tu lo sai perché sei tu il pilota, ti rifiuti di montare le bianche. Va detto però che comunque la Ferrari al netto che sembrava la macchina dominante e poi si è fermata, al contrario di Leclerc, non va promossa a mio modo di vedere. Per una serie di motivi e ci arriveremo a parlarne quando parleremo di Carlos Sainz, in mezzo però c'è Sergio Perez, io la sparo grossa, non ti dico lo boccio Sergio Perez, ma per essere buono mi sto sul semaforo giallo, sul senza giudizio. Nel senso che su alcune gare Bravo ha vinto, ha fatto quello che doveva fare, su alcune gare è mancato, però con questa Red Bull doveva arrivare secondo, non terzo. Al netto che la gara di recupero di Abu Dhabi è stata molto interessante, tutto quello che volete. Con questa Red Bull doveva arrivare secondo e non terzo, le due gare che ha vinto, ha vinto due gare dove non si sorpassa, cioè le ha vinte per piazzamento sostanzialmente. E anche per un aiutino della FIA che non gli ha dato una doppia punizione invece che una singola. Però al di là di quello, quella ne parleremo dopo, ha vinto gare dove Max, tra virgolette, Ole Klerk non aveva la possibilità di dire la loro. Perché secondo me non avrebbe vinto neanche quelle. E con la macchina che aveva, magari non doveva vincerle, nel senso che magari ti aspetti che tra i due la vinca Verstappen. Però dovrebbe essere sempre l'eterno secondo se proprio vogliamo metterla su questo piano. Quindi sono d'accordo che o è senza giudizio o è rimandato, non bocciato. Un po' e mezzo. In mezzo abbiamo uno che va promosso. Non ti dico col dieci ma potremmo anche dare dieci, tanto oramai i voti sono dati un po' a random. George Russell, quarto e assoluto in questo mondiale con questa Mercedes, fenomeno, fenomeno. Cioè io l'ho sempre detto che Russell arrivava ed è arrivato quest'anno con la Mercedes, seriamente il voto è da otto secondo me. Promosso comunque George Russell. Di più, di più nove, nove tranquillo. È lo stesso discorso prima di Max Verstappen. Cosa vuoi dirgli? Che cosa vuoi dirgli? Perché adesso l'unico errore che ha fatto, i due errori che ha fatto, sono stati due tamponamenti in partenza in due gare su 22. E gli unici errori che ha fatto sono quelli perché il resto ha condotto gare perfette, al limite della perfezione. Dove se poteva arrivare quarto con la macchina che aveva, arrivava quarto. Se poteva arrivare terzo, arrivava terzo. Due sole volte è passato sul traguardo dietro al compagno Hamilton, praticamente. Non l'ultimo dei fermoni, eh. No, esatto, voglio dire, quindi due o tre volte è passato tra Hamilton e ricordiamo che in due di quelle occasioni Hamilton aveva la macchina aggiornata e lui no. Ed è arrivato immediatamente dietro al pluricampione del mondo. Che glielo vuoi dir? Promosso, gli diciamo questo, punto, basta. A pieni voti, a pieni voti. Così come può essere promossa la Mercedes per i passi in avanti fatti. Ok, la TD39, tutto quello che volete. Ma la Mercedes è una macchina che come la Red Bull ha lavorato sui problemi, a differenza di Ferrari. A differenza di Ferrari. Vogliamo dirlo? Mercedes è un team, è anche un team che ci ha creduto. Perché altri team sono partiti con, non mi ricordo il termine specifico, ma con le fessure piccole sulle prese d'arie laterali. Sì. E poi si sono convertiti al metodo più standard. Mercedes ha tenuto botta, ha migliorato l'aerodinamica, ha puntato sul far funzionare quel sistema. E ha superato ampiamente Ferrari nel finale di stagione. Chi invece non è disposto a tirare l'embarca per Leclerc, viste le ultime dichiarazioni fatte post Abu Dhabi, e chi è arrivato quinto in classifica assoluta, che è Carlos Sainz Junior, no? Ora, abbiamo fatto un ragionamento per Perez, coppia a carbone per Carlos Sainz, secondo me. Guarda, sono semi d'accordo. Semi per un semplice motivo. Quest'anno, da un certo punto di vista, è stata la coppia dell'anno scorso, in Ferrari intendo. Cioè una Ferrari che nel corso dell'anno è peggiorata. E un Leclerc che da metà anno in poi le ultime piste non le regge. Guida sempre peggio. Nelle prime piste è mostruoso. Cioè vedere il passo di Leclerc a Imola e vedere il passo di Leclerc in Brasile c'è da mettersi a piangere. La differenza tra i due è incredibile. Cioè, sicuramente anche il fatto appunto che la macchina sia calata nel tempo. Però lo stesso pilota sembra accusare di più le ultime piste, che forse sono meno tecniche e più veloci, e quindi forse lui accusa di più questa guida più spericolata, non so come dire. Mentre Sainz è il contrario. Sainz va sempre tendenzialmente un po' increscendo nella seconda metà di stagione. Consideriamo che la prima metà un po' sfiga, un po' errori suoi. Metà delle gare e della prima metà non le ha portate a termine, o le ha portate a termine in posizioni indegne. Va detto che con questa Ferrari secondo me doveva arrivare quarto. Perché la Ferrari di base è sempre stata la seconda macchina in pista. È arrivato quinto perché davanti è un fenomeno che era. Doveva arrivare quarto, ma non mi sento neanche di dire, come hai detto tu, lui non è disposto a tirare il rimbarca. Gli ne diamo una colpa? Ma onestamente no, perché se in Red Bull danno ordini, in Ferrari non li danno. In Ferrari hanno detto, saranno i punti a decidere chi è il primo pilota. E quando i punti lo dicevano con una distanza di 100 punti tra il primo e il secondo pilota, comunque non hanno deciso chi era il primo pilota. Per cui lui giustamente se la gioca dice, io chi cazzo sono per tirarmi indietro? Nessuno. Se alla scuderia va bene che io faccia botte col mio collega, io faccio botte perché devo farmi vedere. Beh, vedi la strategia straordinaria di Silverstone, noi ce la ricordiamo. Bene, no? Che dicono a Sainz con le gomme morbide, sì, fai distacco per favorire le cariche a gomme dure, sotto safety car. Va bene. Lewis Hamilton che colpo di scena non ha vinto una gara quest'anno. Bocciato Lewis Hamilton, finito, basta, è un pilota morto. No, per carità. Abbiamo il titolone clickbait. Sì, sì. Forse sul tuo video. Per quanto riguarda invece il giudizio serio, io faccio fatica a bocciarlo Hamilton, perché se promuovi Russell non puoi promuovere Hamilton, che comunque sette volte campione del mondo con una macchina non performante ha salvato il salvabile. Ok, non ha vinto per il record, ma sti cazzi. Cioè rimane una stagione correlata alla Mercedes che si è sviluppata bene. Ok, gli darei un 7. Ma un 7 perché? Perché anche lui poterà fare... Cioè, perché lui aveva sto mal di schiena che, oh mio Dio, non camminava. Intanto il suo collega Russell si faceva al podio, si faceva bello e usciva fresco fresco come una fogliolina. Ci ha fatto molto dentro per farsi fare sto TD39. Diciamo le cose come stanno. L'ha fatta più grave di quello che era. E come è poi solito fare... Sì, noi sappiamo che Hamilton gioca molto sulla recita, per quanto sia comunque un campione in pista e non si discuta. Però la seconda metà del mondiale si è risvegliato un Hamilton che eravamo abituati a vedere e quindi questo rialza tanto il suo valore. Quindi io direi un 7 per fare una media un po' tra prestazioni me, prestazioni della macchina che non sono colpa sua, un po' di finta pantomima e poi il vero Hamilton che si è visto alla fine. Settimo classificato, Lando Norris, che con quel cesso di macchina che è stata la McLaren, e parlo da tifoso McLaren, non si può non promuovere. Cioè, cazzo poteva fare Norris con questa macchina qua? Io dico solo una cosa, vogliamo paragonarlo al suo compagno di squadra, perché basta il paragone e sappiamo già... No, no, ma ci arriviamo a quello che resta del suo compagno di squadra, perché ci arriviamo. Ci arriviamo a quello che non resta, perché non resta. No, no, quello che rimane, la buonanima dell'ormai ex ritirato pilota da Perth, Australia. Ci arriviamo, eh? Ci arriviamo, eh? Quello che ha perso anche da Gualtiero, eh? Vabbè. Tornando a Norris, seriamente, gli dammo la sufficienza, perché vabbè, la McLaren non era una macchina, che è veramente programmabile all'anno scorso, ha fatto un podio quest'anno. Uno. E noi c'eravamo. E noi c'eravamo. E gli daresti solo la sufficienza. Vedi, faccio notare che ci sono 159 punti di McLaren, di cui 122 sono di Lando Norris. No, ma la sufficienza sì. Che lui è la McLaren. Sì, sì, sì. Allora, da tifoso è 8,5, parliamoci chiaro. Ma io anche da non tifoso un 8 glielo do. Io da non tifoso sto sul 7,5. Perché lui con la sua macchina ha fatto più di quello che ha fatto Hamilton con quello che aveva in mano. Sì, no, no, ma... Il rapporto per me ha fatto di più Norris. Ci sta. Personalmente, personale gusto. No, no, ma è una buona ipotesi. Un 7 a tutti e due. È una buona ipotesi. Diciamo che il podio della McLaren ha un peso specifico enorme su questa McLaren, ecco. Chi invece ha fatto a seduta un po' inanonimato è, e qua andiamo in coppia, la scuderia che rappresenta il tristo mettitore del tigre nella carriera co-op, ovvero la Alpine Renault BWT, che nella vita reale ha fatto ottavo o con nono Fernando Alonso. Il giudizio secondo me è comparabile. Non ti dico senza giudizio perché ci sta che l'Alpine sia la quinta delle ufficiali, secondo me. Sarò di parte, ma ti dico che per me non è comparabile, ma poi dopo ti dico il perché. Ok, secondo me no, vanno abbastanza di pari passo perché anche lì l'Alpine è un po' come la McLaren, è una nobile decaduta che doveva rialzarsi, ci aspettavano tantissime cose, ma queste grandissime cose non sono arrivate. Cioè, arrivare ottavo e nono alla fine rispecchia il valore un po' degli ultimi anni dell'Alpine o Renault, che alla fine è di fatto la stessa cosa. Ocon arriva davanti ad Alonso perché ad Alonso gli hanno sottotato la macchina, specialmente, altrimenti arrivava davanti il… Ed è precisamente il motivo per cui ti dicevo, io non darei lo stesso voto a tutte e due, perché uno praticamente nelle prime otto gare si è ritirato sei volte, arriva alla fine con gli stessi punti del collega e il collega non ha capito un cazzo di come si guida la macchina. Sì, praticamente sono undici punti di differenza. Almeno che a me Ocon di base mi piace, Alonso rimane un pilota che anche a 41 anni, 42, quanti cacchio ne ha? Ha un talento che è paragonabile ai primi tre, ma di adesso, eh? Come talento sì, come talento sì, la macchina è probabilmente un po' anche riflessi, insomma la forma fisica sicuramente incidono. Però oggettivamente un Ocon che ha fatto tutte le gare dalla prima all'ultima ha avuto due problemi in croce, mi fa 90 punti, Alonso me ne fa 80 e si è ritirato in metà delle gare del mondiale, sinceramente, cioè praticamente tutte le volte che è andato a punti ha fatto meglio del suo compagno di squadra. Se devo dare dei voti, per me Ocon è bocciato, è da 5 e Alonso è da 6 e mezzo pieno, anche 7 volendo. Decimo, e chiudiamo la prima trance del pagellone, Gualtiero Percosse al secolo, Valtteri Bottas dalla Finlandia. Finlandese volante. Che con quel cesso di macchina che è l'Alfa Romeo, cioè top 10 mondiale. Ma levatevi il cappello, cioè chi diceva che Bottas era un pilota finito, che non valeva niente, cioè, qualitativamente parlando ha fatto questo. Scusami, eh. Si è tenuto dietro entrambe le Assa, entrambe le Alfa Tauri, entrambe le, come si chiamano? Le Aston Martin e Claren, entrambe le Williams. E il suo compagno di squadra che è turbo ultimo, mentre lui è arrivato decimo con la metà dei punti di un Alpine, con una macchina che non vale un quarto di un Alpine. Tanta roba, abbiamo visto anche un Gualtiero nelle ultime gare, tranne l'ultimo di Abu Dhabi, che non era un fattore, anche nei primi 5-6, ma in carrozza, eh. Insomma, bravissimo. È stato grande, sicuramente degli errori li potete evitare. Alcune gare ha buttato via i punti, lui per primo. Ha fatto abbastanza errori quest'anno, però va anche detto che se per Russell passava da una macchina di merda, una macchina incredibile, e quindi forse gli sembrava tutto più facile, lui al contrario passa da una macchina incredibile a una macchina dove l'hanno messo come primo pilota e forse anche capo ingegnere, perché doveva spiegargli lui come funzionava la macchina. Quindi ci sta che si sia trovato anche in difficoltà. Cioè, nell'anno in cui cambia il sistema di guida, perché si passa l'auto a effetto suolo, tu passi anche una delle scuderie più scadenti, ci sta ad avere anche delle difficoltà di adattamento. Fine parentesi dei primi dieci, apriamo la parentesi che ci piace tanto, no? Direzione Corse Slash Federazione Intrasale dell'Automobile. Di cui abbiamo fatto un bellissimo clipino che potete recuperare. La clip del secolo. Che è un piccolo clipino di satira, 30 secondi molto incisivi, diciamo. Esatto. Li riguardava i calendari. Qua parliamo però delle varie penalizzazioni viste durante ogni cazzo di gara. Ah, è ovvio che stiamo dicendo che era fiava bocciata per quest'anno, ma con due in pagella. Anche per l'anno scorso. Anche l'anno prima. No, anche perché l'anno scorso hanno detto, no, ma andiamo via Michael Masi, il reo di aver sbagliato lo sbagliabile. Scelta condivisibile, l'abbiamo detto anche in privato più volte. Ma abbiamo messo di peggio. Cioè, prendere lo stesso metodo ancora una volta, cioè, possiamo dirlo. Noi siamo due stronzi, due tifosi, ma possiamo dirlo che è ora di mettere dieci commissari per ogni cacchio di gara, tutte le gare? Con giudizio univoco sempre quello, in modo che non ci siano diatribe e penalizzazioni diverse. Con giudizio è quello, gli stessi dieci commissari. Sì, sì, sì. Cioè, 24 i gran premi. E anzi, la cosa migliore, secondo me, sarebbe mettere gli stessi dieci commissari e prenderli uno da ogni team. Così ognuno tira le gremine, come si tira l'acqua al suo mulino. E sì, oddio, è vero che ci sono team surrogati che potrebbero... Però, più o meno, a parte Alpine, povera, disperata, che non ha surrogati, per il resto sono tutti più o meno uguali. Almeno così sarebbe tutto bilanciato. Cioè, sarebbe più oggettivo, secondo me. Più che altro, si eviterebbero quelle spiacevoli situazioni. Vedi Perez, che viene ascoltato quattro ore, con processo in appello, tutto quello che volete a Singapore. Ascoltando meno gli assassini. E il povero Gasly, che per lo stesso motivo a Austin, Texas, viene bullizzato di 5 secondi di stop and go, di penalizzazione, non mi ricordo neanche più, senza neanche sentirlo. Cioè, ma cosa c'è a Gasly meno di Perez? Fernando Alonso che a Austin, Texas, viene valutata la sua macchina come libera di correre e poi viene penalizzato di 30 secondi perché la sua macchina non era adatta. Cazzo, l'avete detto voi che era adatta? Applausi. State bene? Applausi. Ci siamo con la testa? Applausi. Cioè, lì è clamoroso. Così come la penalizzazione a Lance Stroll, tre posizioni indietro sulla griglia della gara successiva, che va bene. Tanto finisce il quindicesimo lo stesso, non cambia niente. Esatto. Poi abbiamo le meraviglie di Max Verstappen che ci regala un meme bellissimo di lui così che non capisce se è campione del mondo o no. Perché questi hanno fatto una regola e poi non la applicano. L'hanno fatto l'anno scorso perché c'era un problema. Quest'anno c'è lo stesso problema e non la applicano come l'anno scorso e lui non lo sa che cazzo... E' campione o non è campione? Non lo sa neanche lui. Eppure è disperato perché per il secondo anno di fila divento campione in maniera un po' naive. Seconda parte del pagellone della classifica, cioè gli altri. E qui ci divertiamo. a partire da quello che resta di Daniel Ricciardo, undicesimo... Posso chiederti un numero per il voto della FIA. Perfetto, benissimo. Beh, concordo. Lo approvo, lo approvo. Così come va dato a Daniel Ricciardo quello che resta del compagno di squadra di Lando Norris che madonna, ragazzi. Un 2, un 3... Ma no, 0 no, perché per la carità lo 0 lo diamo al GOAT. Però, cioè, Ricciardo dà 4 in pagella, ragazzi. Cioè, veramente. Parabola discendente, se ce n'è una... Ricciardo è da mettersi le mani nei capelli. Disastro. Non ci ha capito nulla con queste nuove macchine. Non ci ha capito veramente nulla. Dei due, quando hanno fatto le nuove macchine, lui era quello che diceva che ci si trovava bene. Eh. Pensa si trovava male. Pensa. Pensa se ci si trovava male sulla macchina. Perché lui la prima dichiarazione è stata è una buona macchina. Se questa è una buona macchina, figurati se ti trovavi sulla macchina che non ti piaceva, cosa succedeva? Dodicesimo in classifica generale dietro Ricciardo, Sebastian Vettel, all'ultima stagione della carriera. Quindi, che voto dai a Sebastian Vettel, in generale, per la stagione e per la carriera e per il piano umano? Perché per me sono tutti e tre distinguibili in modo molto netto e chiaro. Concordo. Per me sono tutti e tre più che sufficienti, sinceramente. Cioè, non mi sento i dagli delle insufficienze, ma sicuramente molto diversi. Sul piano umano il disco è lo stesso commento che ho fatto per Max Verstappen e per Russell. Che gli vuoi dire? Cioè, sul piano umano lui è... Lui dovrebbe essere in futuro la testa della FIA. Allora sarebbe un bello sport. Allora sarebbe un bello sport e sarebbe uno sport giusto e non ci sarebbe bisogno di gente come Hamilton che prende multe stratosferiche solo per affermare concetti ovvi per intenderci. Quindi certo. Punto di vista umanitario assoluto. Assoluto. Proprio il voto non è dieci. Dieci è lode. Con bacio accademico. Assurdo. Esatto. Stagione. Questa stagione allora macchina semi peggiore di tutta la stagione praticamente perché secondo me a parte la Williams la sua era la peggior macchina in circolazione stessi punti di Ricciardo perché è pari punti e 12 punti dietro a un Bottas che abbiamo detto ha fatto una stagione di suo fenomenale. Basta un fette che questa stagione si è risvegliato. È come Alonso è tornato il vecchio fette. Cioè Alonso con un'alpina ha fatto i miracoli tra l'altro ritirandosi dieci volte. Lui con un Aston Martin che il suo collega non è andato a punti mezza volta per me ha fatto ha doppiato il collega con una macchina terribile è andato a punti praticamente una buona metà delle gare se non di più saltando due gare saltando due gare io mi sento di dargli un otto per la stagione non come bonus uscita ma proprio perché secondo me sta stagione col fatto che doveva uscire a corso a mente libera è tornato il pilota che era prima secondo me aveva la testa lo stesso discorso che abbiamo fatto per Bottas quando abbiamo detto quando ha la testa libera è un altro pilota Vettel uguale uguale sì e io su Vettel sono un po' più severo per quanto riguarda in realtà la carriera sulla carriera sono d'accordo anche di essere più severo perché diciamo che Vettel è vero che ha vinto 53 gare niente da dire ha vinto 4 titoli del mondo virgola li ha vinti come i due titoli come l'ultimo titolo di Verstappen perché ricordiamo che Sebastia Vettel ha vinto dei titoli del mondo con una macchina incollata a terra che era ordinariamente ineccepibile che si rompeva una gara 6 e 2 no quindi i mondiali che ha vinto combattendo con Alonso peraltro anche lì bravo il momento Ferrari del 2010 bravissimi li ha vinti per netta superiorità della macchina e non per meriti suoi nel senso che anche per netto suicidio della Ferrari sì sì nel senso secondo me rispetto a Vettel ci sono campioni del mondo che hanno vinto meno più bravi di Vettel Rosberg Button Fernando Alonso lo stesso Verstappen vabbè ma Verstappen è un fenomeno e va nel gota della disciplina però ci sono campioni del mondo e campioni del mondo ecco Vettel non ha vinto né prima né dopo e quando poteva vincere oltre con la Red Bull ha buttato via dei mondiali che insomma ecco tu hai detto che Alonso ha il talento dei primi tre sì ok Vettel no secondo me Vettel è sotto sono d'accordo che sia superiore a Vettel ok però non mi sento neanche di dire che Vettel è così tanto inferiore a lui perché come ho detto no 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 cioè allora ferma quest'anno in cui quest'anno in cui ha guidato con una macchina di merda ma tranquillo per divertirsi è stato un fenomeno no 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 allora nel senso non sto dicendo che Vettel è un termone sto dicendo è un buonissimo pilota non vinci 50 gari per caso ma alla carriera gli diamo un 7 perché non è qua è qui è qua sì concordo concordo questo è K-Mag è qua a particello perché prima del Brasile avevamo un giudizio totalmente differente su K-Mag dopo il Brasile secondo me il giudizio è idolo totale nudi basta cioè fermate tutto non gli regalerò comunque il 10 però sicuramente il voto è positivo allora contestualizziamo è stato l'unico che ci ha creduto in quel contesto con pista semi asciutta semi bagnata con gomme slick onore al merito bravissimo va detto che se qualcun altro non avesse avuto la grande strategia di mettere gli intermedi usati secondo me Magnussen non andava in potenza non avrebbe avuto una certa pole secondo me no poi nella stagione Magnussen in realtà va promosso in relazione anche a chi verrà dopo perché non correva da un anno in Formula 1 correva in Indycar se non sbaglio o nella Nascar americana faceva dell'altro faceva dell'altro questo qua era fuori dalla Formula 1 mandato fuori a calci il culo insieme a Grosjean per aver lasciato le macchine quella stagione non diamogli il voto perché quella stagione cioè potrebbe influire sulle successive il voto di quella stagione ripreso perché ha mandato fuori Mazepin perché ricordiamo che se non ci fosse stato lo scandalo della guerra tra Russia e Ucraina Mazepin sarebbe ancora qua ripreso non dico per sbaglio ma insomma per disperazione cioè te dici anche un'ass che è andata in calando tutto l'anno e lui ha continuato ad andare a punti alla fine una gara sì e quattro no però ha continuato ad andare a punti fino alla fine dell'anno qualcun altro è andato a punti solo quando l'ass era forte e in due occasioni più fortuite che altro quindi direi che Mag insomma ha fatto la sua porca figura che Mag per me va promosso per me va promosso che Mag chi non va promosso è quello che è arrivato dietro di lui Pierre Gasly ma vogliamo parlare della decadenza di Pierre Gasly è più decaduto dei nobili del Seicento mamma mia cioè meno male che vai in Alpine Renault Gasly potrebbe essere la volta buona che si rilancia forse l'Alpine Renault non dovrebbe dire meno male visto che ci arriva Gasly che avevano però l'Alfa Tauri è stata come la Williams e la Stone Martin cioè erano le ultime tre scuderie parliamoci chiaro non erano scuderie al top però minchia cioè Gasly ha vinto una gara in Formula 1 ha fatto anche dei podi non è l'ultimo degli arrivati l'Alfa Tauri di quest'anno mamma mia è chiavica rispetto all'Alfa Tauri dell'anno scorso e lo dimostra anche il fatto che anche Zunoda rispetto all'anno scorso è peggiorato di brutto in termini puramente di prestazioni e punteggio però Zunoda non è mai stato un fenomeno Gasly l'anno scorso aveva fatto 100 punti ed era ampiamente nella top 10 forse anche nella top 6-7 se non mi sbaglio no beh ma primi 10 tutta la vita è stato un fenomeno quest'anno non è arrivato a fare un quarto dei punti dell'anno scorso mi dispiace perché a me Gasly piace un sacco e devo bocciarlo devo bocciarlo tanti errori si è suicidato in tante gare forse come Ricciardo stile di guida incapace di guidare queste auto forse sì non lo so però il Pompier va bocciato non ci sono se Gasly è un 4 Gasly è un 4 sì Lance Stroll 4 per motivi diversi lo bocciamo anche lui a me Lance Stroll gli diamo anche un 3 non dico a priori perché insomma a me Lance Stroll non è mai piaciuto come pilota neanche quando eri in Williams quando faceva dei podi ogni tanto non mi ha mai convinto fino in fondo è un pilota pagante lo sappiamo però appunto un pilota pagante potrebbe avere anche delle chance per fare meglio visto che comunque la scuderia è sua interalmente della famiglia Stroll cioè ci si aspetta magari dei risultati più decenti ecco non delle robe impropolitiche se in Red Bull la macchina è fatta su uno stampino del culo di Sebastian di Max Verstappen ok perché lui è il fenomeno lui deve vincere la macchina è calibrata su di lui immagino che il figlio del proprietario della scuderia abbia la macchina fatta su uno stampino del suo culo più che lui no la differenza di risultato direi che è palese perché le ha prese amaramente dal suo secondo pilota che non ha la macchina fatta a stampino per lui sedicesimo un altro pilota che va bocciato da me e viene bocciato anche dalla Formula 1 Schumacher Junior ora a me Schumacher Junior lo dico non mi è mai piaciuto mai il Jake lo sa lo sanno tutti quelli che guardano i miei podcastoni della Formula 1 Schumacher non è mai convinto fino in fondo mi ha dato fastidio che venisse sponsorizzato dalla stampa italiana per ovvi motivi perché è il figlio del Kaiser ok ha detto che Schumacher ha vinto quello che ha vinto meritatamente ma non ha mai fatto quel click che ci vede sempre aspettare da un campione di Formula 2 dopo un anno sulla stessa macchina migliorata peraltro perché se K-Mag che non correva da un anno ha fatto quei risultati mi aspettavo che Mick Schumacher fosse al suo livello se non superiore secondo me è stato troppo duro erudere nei confronti di Mick in più occasioni al netto che bocceva i Mick anch'io ok e che la sua occasione giustamente l'ha avuta perché ha vinto la F2 che sia di costanza che sia di talento che sia di qualcosa l'ha vinta è giusto che abbia l'occasione non ha dimostrato un cacchio per i motivi che aveva appena spiegato con K-Mag quindi va bene bocciarlo sono d'accordo però ha fatto pari punti con Tsunoda e Tsunoda l'anno scorso doveva essere il fenomenone incredibile quest'anno ha fatto cagare pure lui ok ha fatto quelle due gare che è andato a punti ha fatto meglio di quello che ha fatto Tsunoda in tutto l'anno perché i punti lui li ha fatti in due gare quindi in quelle due gare se l'è giocata comunque nei momenti in cui si sentiva fiducioso della sua macchina e delle sue possibilità ha combattuto con piloti d'Alto Borgo quindi lui come pilota ha bisogno di maturare tanto forse in altre categorie come ha fatto per esempio Nick De Vriesi in Formula E per dire ha bisogno di maturare forse in altre categorie ha bisogno di esperienza non lo vedo un pilota da buttare via non lo vedo un pilota da promuovere adesso però penso che Gunther cacciare via lui per prendere chi ha deciso di prendere penso sia una puttanata perché tra i due i margini di crescita tra l'uno e l'altro sono secondo me a favore di Mick senza ombra di dubbio senza se e senza ma e come ho detto mi sento di spezzare un po' una lancia in suo favore al netto che secondo me ha lo stesso problema di Gasly di Ricciardo e degli altri cioè è cambiato il formato della macchina cioè prima aveva una macchina del 2021 e è andato qualche volta vicino ai punti con la macchina del 2021 che era la macchina del 2020 non sviluppata lo sappiamo esatto perfetto ha avuto due anni sfortunati nel contesto però sai macchina del nuovo concetto del nuovo tipo ok dell'effetto suolo e non riesce ad arrivare in fondo alla gara un altro po' si ammazza la gedda Tsunoda è arrivato diciassettesimo dietro appunto Schumacher ripeto confermo il giudizio che ho avuto anche io su Tsunoda il giapponese si boccia d'accordo primo della generazione Z e non millennial ad arrivare in Formula 1 gran difensore tutto quello che volete però se Gasly ha fatto schifo con l'Alfa Tauri Tsunoda ne è l'esatto riflesso ha fatto peggio è lì perché è protetto Red Bull il giapponese su motorizzato Honda e chiudiamo parentesi ha detto che comunque è più bravo di altri piloti paganti se a Mik do un 4 e mezzo Tsunoda si prende un 4 pieno perché secondo me è stato peggio aveva anche già l'esperienza l'anno scorso con una macchina performante seria con delle battaglie al seguito non è accettabile l'unico giapponese che non decise la rabbia ma va bene quello è un altro discorso tra l'altro anche quello rimaniamo in Asia Guaniojo è diciottesimo ostia è dura dare un giudizio su Guaniojo possiamo darlo senza giudizio lo bocciamo cosa facciamo promuoverlo o no perché comunque cioè nel senso l'avrei promosso se avesse fatto punti come Bottas o comunque appena sotto ma Guaniojo non è Bottas e l'abbiamo visto è un pilota pagante tutto quello che volete ha fatto un decimo dei punti non è possibile quindi lo possiamo rimandare ma perché è uno degli altri che dovrebbe uscire dalla formula 1 come Stroll dai però a differenza di Stroll Joe qualcosa di buono l'ha fatto vedere col cesso di macchina che ha no si tipo il driftone a Monte Carlo tipo esatto o i punti dalla prima gara in Bahrain no col contesto che la Mercedes non c'era ripeto Joe è lì per i soldi ecco anche in formula 2 non era sto per anche insomma qualche punto l'ha fatto prima stagione in formula 1 mi sta anche bene come dico sempre la seconda chance la si dà a tutti però valutiamo anche come è andato l'anno cioè dalla partenza a cui punti a un cadere colossale forse colpa della macchina perché anche Bottas è calato nell'anno secondo me è più colpa della macchina sicuramente la macchina l'ha fatto il suo però Joe è bocciato secondo me sì diciannovesimo Alexander Albon da Londra ma gioca per la Thailandia corre per la Thailandia il thailandese che rientra dopo un anno in formula 1 lui l'ha confermato per l'anno prossimo in Williams e ci mancherebbe altro perché con quel cesso di macchina che ha è già tanto lui non ha una macchina un triciclo e sta pedalando a 20.000 giri con piedini posso dire che io in proporzione Albon lo promuovo cioè perché più di così con questa Williams che è una scuderia barzelletta da un lustro a questa parte cioè cosa può far di più allora allora Albon te lo promuovo ma con un 6 e mezzo nel senso che è lo stesso Albon della Red Bull cioè è bravo ha talento per andare a punti anche perché ci va con una Williams senza un bar di dubbio e lo fa con delle strategie clamorose che si inventa lui e basta riesce a fare delle robe incredibili ma probabilmente se anche avesse dico una Alpine non riuscirebbe ad arrivare sul podio Albon secondo me è come appunto gli Oconi i Maggi i piatti che stanno nel mezzo non è un fenomeno ma è uno che in Formula 1 ci sta non è che uno dici cosa si presenta a fare ti avrei anche detto guarda te lo promuovo con 8 prima di vedere però uno che l'ha sostituito che in una gara ha fatto praticamente gli stessi punti che aveva fatto lui fin lì ci arriviamo quello che è arrivato ci arriviamo quello mi fa calare la votazione di Albon hai capito perché allora dici ok quindi la macchina un po' di più ce n'aveva ancora da dare sì sì Albon bravo ma sei l'Ocon di turno non sei l'Emilton di turno esatto no no ma capisco vabbè è un biglietto che in Formula 1 ci sta ecco come si è guadagnato il posto come chi non ci può stare quello che è arrivato dietro di lui con al secolo aspetta che controllo perché a noi gli vogliamo bene se sia chiaro tutta la stima del mondo noi tutti vorremmo essere lui al secolo due punti due su ventidue gran premi confermo da Montreal il GOT Nicolas Latifi che dopo tre anni di una grata carriera ci saluta Dio grazie mi verrebbe da dire ecco ne abbiamo visti di piloti paganti ma Latifi ragazzi madonna io comunque comunque quanto daresti a Latifi dammi un numero due come i punti dell'anno quindi dai più a Latifi che a Ricciardo sì ma perché i punti perché Ricciardo non ti aspettavi niente mentre da Ricciardo sai perché perché i punti che ha fatto sono punti veri e non punti farsa come a Spa ok concordo e poi perché Ricciardo è decaduto mentre lui lui non ti aspettavi niente te li ha fatti i due come i punti ripeto ricordo che il papà di Latifi è azionista del 35% della Williams o comunque di un terzo della società quindi cioè capiamo perché Latifi è lì anche in Formula 2 non è che fosse un fenomeno cioè ricordo che in Formula 2 Latifi è arrivato secondo ha vinto anche delle gare però non era quel fenomeno che avevi visto come Latifi come Russell come Leclerc cioè insomma ha battuto gente come Luca Ghiotto che è uno che nei GT la spiega allora quindi però in Formula 1 cosa si presentava fare Latifi se non per portare soldi se tu gli dai due io gli do due e mezzo perché mi ha fatto vincere Max quindi gli do un mezzo voto di simpatia quello è l'anno scorso quest'anno quello è l'anno scorso eh ma glielo diamo tipo di rimando gli mettiamo il suo registro per l'anno dopo però no cioè allora se lui in 22 gare ha fatto due punti quello che viene dopo in una gara ha fatto due punti con la stessa macchina quello che viene dopo dovremmo dargli 10 elote come fai a promuoverlo ha fatto gli stessi punti ok in 22 gare in 22 gare questi sono la metà dei punti di album e tu dici beh allora ne ha fatti tanti no è che la macchina fa la mente cagare che poi hanno un poveretto solo che deve mettere a 90 per scorreggiare perché Latifi ha avuto il non felice record di essere 21esimo in un campionato di 20 piloti regolari cioè a un certo punto io ricordo che eh sì eh perché a un certo punto è vero Nick DeVries che è arrivato dietro in classifica generale che cantava per i piazzamenti e per minor gare fatte a Latifi aveva due punti e lui aveva uno con la Williams aveva uno è vero è vero quindi cioè DeVries è in classifica no e DeVries va promosso e infatti mica scemi qui nella Red Bull se la sono prende la mezza tu stai in Alfa Taule ma scusa se tu non puoi arrivare e prendere una Williams non hai mai guidato una Formula 1 in vita tua vai a punti e dai la merda a delle macchine che sono di media classifica che hanno dei piloti che gareggiano da dieci anni cioè DeVries correva in Formula E cioè era il terzo petto della Mercedes insomma delle motorizzate Mercedes cioè faceva dell'altro faceva il test non è l'ultimo degli stronzi l'ha vinta per carità no no appunto però ripeto DeVries era in Formula E non era in Formula 1 era bravissimo infatti ripeto mica scemi quella della Red Bull famiglia Alfa Tauri che se ne sono prende gli scemi sono quelli che si sono presi Logan Surgent e avevano Nick DeVries per quanto Logan Surgent per me ci può stare in Formula 1 ha un po' po' la opinion perché comunque Logan Surgent è il rookie dell'anno della Formula 2 sì 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 ma infatti ma io concordo pienamente però dico l'hanno preso dopo essersi fatti scappare eh no appunto per me la coppia doveva essere per me la coppia della guida della posta doveva essere Albon DeVries invece è Albon Surgent ultimo classificato ma è senza giudizio perché due gare da sostituto da riserva non si possono giudicare fino a che al tempo era peggio della Williams quando la guida Nicola Sulkenberg fa due gare diciassettesimo e dodicesimo perché Fettel era positivo al covid senza giudizio e Scola Sulkenberg che sarà il grande ritorno dell'anno prossimo no? sì a 35 anni dopo tre anni credo da riserva o due quelli che sono torna in ass non mi aspetto grandi cose da Ulkenberg per quanto non mi dispiace però ha fatto il suo corso secondo me un po' come Ricciardo quello che dicevo prima sì quello che dicevo prima è inconcebibile trattare così Mick e poi prendere un 35enne che non corre l'anno in Formula 1 e che l'unica macchina che ha toccato non è andato a punti come Nick DeVries nonostante fossero le ultime due macchine uno punti li ha fatti e l'altro no quindi non ti ha dimostrato le stesse cose io avrei lanciato i giovani avrei lanciato Drew Gubic Porsche lo stesso Duan comunque i primi della Formula 2 di quest'anno scusa quanti ce n'ha la prema da dare della Ferrari da dare a questo qua dalla Formula 2 nessuno sono entrambi della Red Bull quindi no ah ok no della Ferrari Driver Academy ce ne sono pochini però arriveranno dalla Formula 3 però dobbiamo aspettare un po' un po' ma quello è un altro discorso comunque questo che Hulkenberg dai dai sì sì no vabbè ma quello poi sono nostre valutazioni che lasciano ovviamente il tempo che trovano un po' come questo pagellone insomma che è fatto un po' per divertirsi e quindi tempo di chiusura ricordo che ci sarà la versione condensed sul canale del Geggone non so quando magari in questi giorni dopo il mio sì tra qualche giorno quindi siamo al tempo dei saluti quindi mi raccomando iscrivetevi a entrambi i canali perché insomma si parla di sport su vari punti di vista io personalmente se volete rilasciando il tempo che trova così è per dire lo sappiamo sono chiacchiere da bar però qua si parla sul mio canale di sport vero sport corso giocato in base alla disciplina su GEC TV ci sono invece diciamo i sim racing gameplay di varie categorie motoristiche quindi passate perché sono tutti contenuti meravigliosi su entrambi i canali c'è qualche vlog dal vivo ricordiamo che poi probabilmente tra un paio di settimane ci saranno anche le prime gare dal vivo ma non andate a vedere gare gareggiate gare vere qui presenti ci manca la seconda gopro adesso vedremo dove reperire in ogni caso tempo dei saluti anche su questo canale quindi appuntamento ai prossimi episodi dei podcastoni e dei vlog sui vari canali sapete comunque dove trovarci e dunque buona notte a tutti un cordiale saluto da miti torgard e da jeg che